De Lorenzi Sefavale, l'aspera stagione, è la storia di Carlo Rivolta, giornalista che ha scritto tra il 77 e i primi anni 80, ma in realtà è la storia degli anni che hanno preceduto gli anni 80 la catastrofe politica e morale dell'Italia, raccontati con uno stile noir, con una straordinaria capacità di analisi dei testi di Carlo Rivolta, un libro per capire l'Italia in cui viviamo oggi. Girolamo di Michele per Club Dante